come siete carini piccolini ok aspettate qua vado a prendere cibo per voi come sono stupidi questi due cibo 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 mangia mangiala mangiala come siete stupidi voi due oh tu stai stupido joyride tu stai stupido glisten joyride e guarda quelle wings se non piacere come si casca ciao 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 aia 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 sempre come se stai per fare la caccia in faccia è come quelle mani sembrano di bebe no no tu mani e cacca come la pipiscia e io ho le mani di Schiuvo io te la le mani come piccolo e carino ah ah i tuoi mani e stupide si si dice quando volete guarda qua ci stanno proprio lì se sei come di casa mi stai facendo arrabbiare voi due morite morite lei è la mia soella soella mi vengo a prendere stupido cosa sembri come una cacca che ha fatto la caccia in faccia e tu non hai fatto la pipiscia in faccia è negli occhi è negli occhi come la pupa di pomido me ne vado stupido nessuno ti può prendere voi non siete brutti o tu stai brutta come che si fa pipisciare la twitter guarda qui tu sembri che puoi andare sull'acqua ma puoi fare la cacca sull'acqua fa la cacca su tua faccia tu stai stupido come una stupido pupa mi fate arrabbiare oh ma mamma ah we don't care come non ah cos'è brutta cos'è successo ti mangio la faccia ti mangio la faccia ti mangio la faccia ti sto mangiando ti mangio il gusto è buona è buona aspetta aspetta ci mangio ci mangio no prossimo abbiamo il nostro padre andiamo qui dai guardi si grazie Shelly ok grazie andiamo oh ciao piccolini come siete no e perché la stupido sta prendendo cibo per noi ma quanto si mette per prendere cibo quanto è andato via cento giorni l'ha detto cento giorni non avete capito che io sono un altro dei vostri papà oh si vedi perché noi siamo i fiori si noi siamo fiori come tu ah si bravi 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 vedete carini grazie mamma possiamo possiamo sederti su qua si si potete sedertemi un pochino yeeeh 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 papà e mamma aspetta cosa sta succedendo là fuori ti vengo a prendere voi due pebols e tutti hey vi difendo piccolini mi fate ar avviare mostri mi fate arrabbiare ragazzi lo sai cosa che non può farmi niente una cosa ti prendo voi due mamma Ah, sei così bravi che... Grazie. Dobbiamo lavorare, dai, Dan. Sì. Andiamo a fare la mia cosa, perché un sacco di persone stanno aspettando. Ehi, Dan, di vieni, puoi venire? Ok, dai, andiamo. Corri, corri. Saliamo qua sopra? Che la faremo? Ecco qua. Mi salve? Mi salve, sono Sprout. Sprout. Sprout non può diventare niente ora. Ok? No, Sprout! Non mi permettete di farmi male. Sì! mamma mamma cosa? mamma io io sono la mia io sono fame no ma il nostro babbo fa come se 10 kg 10 kg babbo mamma che cosa? ahhh 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 ok aspetta pausa ok cosa stai facendo? ahhh ahhh papà di loro ahhh 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 io sono prendo le stupide sprawl ok ahhh 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 che paura piccolo stupide 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 st Che cosa è? Ehm, posso non mi dormire? Ok Pappa, pappa! Adicolini piccolini ho cercato cibo dappertutto però non potevo no non le toons io mangio le toons per food ma non no 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 sono qua mi sta cercando da prendere la mia sorella hey fragolino non mi dare un calcio non mi dare un calcio fragolina oh mangio la fragolina no mangio io mangio di vestito mangio la sprault perché è una gomma non mangiate ok io mangio scelli io mangio sprout ah bene bravi pausa wow sei tornati sei tornati come dei cuccioli aspetta pausa che cos'è? io sono Ghiggy Ghiggy ti mangio la faccia no io voglio la scawe io voglio la scawe io voglio la scawe io voglio la scawe io voglio papà dico uno di le mie amiche da piedi la che non scherzi le vi piace faremo una parte tua ciao 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 ciao